Buonasera a tutti, vi do il benvenuto anche a nome della professoressa Marchetti che si scusa per l'assenza ma è oggi impegnata in un incontro istituzionale fuori sede. Come potete vedere anche dalla nostra cattedra devo anche comunicarvi purtroppo l'assenza del professor Massimo Chiena che per un improvviso ma vi assicuro giustificato contrattempo non può essere a Trento come aveva garantito. Saremo quindi tenuti ad ascoltare due relatori che ci hanno comunque garantito un contraddittorio più che ampio e approfondito senza quindi dover restringere oltremodo i tempi del nostro dibattito, della nostra discussione nonostante l'assenza di un relatore. Altro non dico, il tema è sicuramente delicato, è un tema poco frequentato in università e nella professione ovviamente frequentato da specialisti più che specializzati, scusate il gioco di parole nel senso che poi il processo innanzi alla Corte dei Conti con tutti gli annessi e connessi è comunque materia riservata a davvero pochi professionisti quindi questa è l'occasione per me ma penso un po' per tutti anche di imparare e conoscere temi davvero importanti. Fin dei conti la giurisdizione contabile dovrebbe essere la chiave di volta dell'ordinamento laddove la forma di responsabilità che veicola è la garanzia ultimativa dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa per cui si tratta di temi di rilievo sistematico e pratico di indubbio interesse. Non tolgo veramente la parola ai relatori, non so che senso e che ordine espositivo si vorrà seguire. Quindi parlerà prima il dottor Pilato, successivamente l'avvocato Osele, ci sarà spero più spazio anche per un dibattito, per un confronto, comunque per un dialogo effettivo fra due parti al termine poi delle singole relazioni. Intanto vi ringrazio. Sì, io innanzitutto ringrazio dell'invito a intervenire e devo dire ho provato molto piacere perché ritorno in una sede nella quale ho lavorato per lungo tempo e devo dire ho lavorato ricevendo molti stimoli di riflessione sulle funzioni inquirenti riservate alla Corte dei Conti. Per la verità mi ero preparato un tipo di relazione che doveva un po' adattarsi ai suggerimenti, alle indicazioni e anche mi attendevo alle segnalazioni di criticità che dovevano prevenire dalla prolusione del professor Occhiena, però provo un po' a inserirmi in questa prospettiva di tipo critico, quindi ricognitivo ma anche critico, delle situazioni soprattutto guardate in prospettiva che riguardano le tecniche di accertamento del danno erariale e di quantificazione del danno erariale. Aggiungo anche che non è facile assolutamente guardare con serenità interpretativa le nuove situazioni normative e le difficoltà nascono soprattutto dalle logiche ispiratorie e contraddittorie che hanno guidato la legislazione finanziaria nell'ultimo decennio ed è un po' una delle ragioni per le quali io personalmente da un po' di tempo mi ritraggo dagli inviti a partecipare a incontri che riguardano proprio le riflessioni sulla natura, sul ruolo e sulle funzioni della Corte dei Conti perché noto che da un po' di tempo vi è un po' di ambiguità nella ricostruzione della utilità delle funzioni. Tenterò anche di spiegare meglio un po' questo mio atteggiamento. Io partirei da questa riflessione preliminare che in genere utilizzo sempre nel momento in cui mi chiamano a riflettere sulla natura delle funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Partirei da una breve retrospettiva, cioè che cosa è il danno erariale nelle stratificazioni concettuali della giurisprudenza. Utilizzerei un po' il metodo di Giannini, cioè le invarianti concettuali. Cioè nella progressione di un istituto vi è sempre il consolidamento di una serie di concetti che rimangono fissi, invariabili e su queste invarianti concettuali poi un po' ragionerei su queste dimensioni e orientamenti evolutivi che ovviamente dipendono molto dai quadri normativi e dai corrispondenti orientamenti interpretativi. Allora, sulle invarianti concettuali a me sembra molto nitida questa ricostruzione. Cioè il danno erariale in realtà sorge come una trasposizione del danno extra-contrattuale nei rapporti di diritto civile con adattamento ai rapporti di diritto pubblico. Quindi vi è sicuramente una concezione di tipo patrimoniale, vi è una connotazione in peggioramento di uno stato patrimoniale, quindi non abbiamo un bilancio pubblico che perde un valore, quindi vi è un decremento economico. Vi è un criterio differenziale per stimare questo decremento economico. Quindi bisogna confrontare due stati patrimoniali, la differenza, quindi la perdita del valore e il danno pubblico, è il danno erariale. Quindi questa mi sembra una invariante concettuale abbastanza stabile negli orientamenti giurisprudenziali. E altrettanto nitida mi sembra questa immagine correlata al comportamento. Quindi il danno erariale non può essere disgiunto da una illegittimità provvedimentale che non è sufficiente però perché si deve ricongiungere a un comportamento di gestione che è illecito perché è attuativo di un'attività d'amministrazione illegittima. Quindi a me sembrano delle sequenze abbastanza nette, abbastanza solide nel momento in cui operiamo con questo quadro retrospettivo. Le prospettive evolutive non sono semplici da ricostruire. Io ci provo scomponendo un po' le varie tendenze normative e poi proverò a trarre delle conclusioni non smettendo però queste invarianti concettuali che secondo me sono un po' i termini di riferimento all'interno dei quali si possono sicuramente innovare gli orientamenti però i punti cardinali del danno erariale sono questi che vi ho indicati in una retrospettiva di ricostruzione dei concetti. Allora vediamo di indicare una prima tendenza normativa molto forte e pregnante negli ultimi dieci anni, ma io direi soprattutto nell'ultimo quinquennio. Noi abbiamo una legislazione che sicuramente opera sui bilanci pubblici, opera con dei concetti indicati per sintesi, con tagli, tetti e tasse, con regimi vincolistici che fissano delle regole inderogabili nella gestione dei bilanci pubblici. Molte volte queste tendenze normative si ricongiungono alla evocazione della responsabilità amministrativa. Quindi io do un tetto di spesa, taglio un settore di bilancio in termini percentuali, mi preoccupo o non mi preoccupo comunque della copertura finanziaria per le maggiori spese che comunque quel bilancio subirà, ma in ogni caso nel momento in cui fisso il vincolo di bilancio e il limite di bilancio come legislatore evoco la responsabilità amministrativa. Cioè tutto ciò che avviene oltre, al di fuori, quindi con infrazione di quel vincolo chiama in causa l'istituto della responsabilità amministrativa. Quindi sembra quasi che la responsabilità amministrativa debba prescindere o possa prescindere da un danno erariale così come io l'ho indicato nelle premesse sulle invarianti concettuali perché la logica diventa incentrata sull'accertamento del limite di bilancio. Quindi un comportamento illegittimo che in sé genera danno perché la proibizia domini è inderogabile. Quindi questo è un primo quadro concettuale che giustamente nella dialettica processuale viene molte volte criticato perché sostanzialmente in maniera molto sottile sembra evocare la sussistenza di una responsabilità per infrazioni di disposizioni legislative a prescindere da un accertamento mirato sul danno erariale in senso differenziale che è un po' stratificato nella costruzione della giuridizione della Corte dei Conti. Quindi questa direi è una prima tendenza normativa da mettere in evidenza. Poi ritorno su questo punto per fare un po' la sintesi nella lettura interpretativa. Io lo metterei come quadro problematico. Seconda tendenza normativa altrettanto insidiosa. Sempre leggendo la tendenza normativa nell'ultimo decennio. Noi ne abbiamo, oramai è molto difficile pentare il compendio in un numero chiuso. Però vi è una proliferazione di fattispecie cosiddetta responsabilità tipizzata. Mentre nelle premesse che vi ho detto il danno erariale in fondo è una categoria aperta, è una clausola generale. Quindi ogni diminuzione del bilancio pubblico in termini patrimoniali correlabile a un'attività illegittima concatenata a un comportamento di gestione illecito è fonte di danno erariale. Il legislatore invece nell'ultimo decennio ha moltiplicato le fattispecie di tipizzazione della responsabilità amministrativa. E la tipizzazione in realtà non è un fenomeno molto semplice da leggere. Perché vi sono ipotesi nelle quali la tipizzazione si ricongiunge a una fattispecie nella quale è evidente il decremento patrimoniale. E faccio alcuni esempi. Stipulare un contratto in violazione della convenzione CONSIP che fissa il parametro economico di scambio nell'interesse della pubblica amministrazione. A me sembra una tipizzazione che comunque conferma la natura differenziale del danno erariale. Perché ho un'amministrazione vincolata a un parametro economico stimato per congruità. Se quel parametro di congruità arbitrariamente viene disatteso è logico che la maggiore spesa costituisce danno erariale. Però non tutte le fattispecie tipizzate presentano questa peculiarità. Vi sono molte fattispecie nelle quali il legislatore incentra l'attenzione sulla mera infrazione del divieto normativo. Quindi è recessiva la riflessione sul parametro economico. E diventa fondamentale il vincolo posto sul comportamento nella gestione della risorsa pubblica. Sono innumerevoli queste tipologie di tipizzazione. Io metterei in questo momento in evidenza, anche perché comunque è una fattispecie ad alta fibrillazione giurisprudenziale, l'obbligo di riversamento degli emolumenti percepiti in difetto di un'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. Quindi abbiamo un obbligo di esclusività nel rapporto di servizio con l'amministrazione, nel rapporto di lavoro pubblico e abbiamo un incarico incompatibile o meglio che potrebbe diventare compatibile a condizione che fosse rilasciata un'autorizzazione. Il legislatore interviene con una norma puntuale. Via responsabilità amministrativa era perplessa questa affermazione però la legislazione anticorruzione conferma che si tratta di giurisdizione della Corte dei Conti e la condanna viene commisurata a cosa? All'entità degli emolumenti percepiti in posizione di incompatibilità a prescindere dalla circostanza che la prestazione assorbente nei confronti della pubblica amministrazione sia stata correttamente o scorrettamente resa. Quindi il problema non è avere adempiuto correttamente l'obbligazione principale di resa della prestazione della pubblica amministrazione. Il problema è aver cumulato un incarico di qualsiasi tipo, non preventivamente controllato e autorizzato alla pubblica amministrazione, la conseguenza è una responsabilità amministrativa gravata da questo obbligo di riversamento. Quindi vi è un danno erariale, vi è qualcosa che geneticamente non appartiene al danno erariale ma vi è un'espansione della giurisdizione di responsabilità amministrativa, sicuramente vi è una tipizzazione normativa. Questo è un dato molto evidente. Quindi questo lo metterei come situazione meritevole di un approfondimento di una riflessione. Andiamo all'ulteriore tendenza normativa, le passo un po' in rassegna molto velocemente. Vi sono anche nei fenomeni di tipizzazione degli automatismi giuridici che diventano molto difficili da ricostruire soprattutto nel momento in cui lo stesso legislatore opta in favore di regimi di inversione dell'onere della prova. E ovviamente il riferimento diretto è alla legislazione anticorruzione che ovviamente non voglio trattare specificamente però colgo questo tratto peculiare. Quindi siamo in un contesto nel quale repressione e prevenzione si ricongiungono in una strategia unitaria. Vi è una reazione di sistema che vuole creare una barriera di impermeabilità ai fenomeni corruttivi e il responsabile della prevenzione risponde automaticamente in quale ipotesi? Vi sono delle ipotesi omissive di obblighi fondamentali. Quindi ho messo a predisposizione del piano di prevenzione, ho messo a predisposizione del piano di formazione dei funzionari che poi verranno preposti alle attività segnate dalle zone rosse per la infiltrazione dei fenomeni corruttivi. Però vi è una fattispecie tipizzata che è molto particolare perché è una responsabilità amministrativa automatica che discende dall'accertamento di fatti corruttivi intestati a terzi, dai quali discende una responsabilità amministrativa per danno erariale. Questo danno erariale è un danno all'immagine, dal quale, è un danno all'immagine e attenzione potrebbe essere anche un danno patrimoniale concorrente con il responsabile dei fatti sensibili alle accertamenti dell'autorità inquirente penale. Il problema è che l'onere della prova è un onere riversato sul responsabile di riflesso della condotta principale. Quindi vi è un fatto di rilevanza penale, un fatto di rilevanza amministrativo contabile, il rapporto è un rapporto di connessione automatica, l'onere della prova è invertito perché il responsabile del procedimento deve provare di non aver colpa per avere predisposto tutte le misure precauzionali. Quindi siamo in un contesto di tipizzazione che si arricchisce di un elemento ulteriore. Questo elemento ulteriore è un elemento di automatismo nei collegamenti tra responsabilità di diritto pubblico. Quindi il quadro ricognitivo delle tendenze normative si fa ancora più articolato. Facciamo l'ultimo riferimento e poi tento di raccogliere un po' le riflessioni e di conseguire alcune riflessioni. A me sembra importante, questo è un argomento che ho selezionato intenzionalmente e che interessa secondo me alla Corte dei Conti sviluppare bene, i nuovi raccordi con le funzioni di controllo, cioè tra l'istituto della responsabilità amministrativa e le funzioni di controllo. Io direi questo in maniera molto semplificata. Tra controllo e giuridizione della Corte dei Conti vi è sempre stata una lettura a favore di ricostruzioni separate dell'ambito di esercizio delle funzioni. Vado in maniera più chiara, cioè da una sentenza della Corte Costituzionale piuttosto risalente, cioè la 29 del 95, che comunque guarda lo sviluppo nel nostro ordinamento dei controlli che successivamente verranno detti di gestione o di efficienza, si è sviluppato, a me non interessa dire attorto alla regione, però si è sviluppato il convincimento che la nuova generazione dei controlli sulle amministrazioni avesse poco a che fare con la giuridizione di danno o di responsabilità. Nel senso che si è formata questo fronte compatto di elaborazione delle utilità dei sistemi di controllo. Cioè si è sempre detto che la funzione del sistema di controllo, interno o esterno che sia, è quello di individuare delle criticità che l'amministrazione deve correggere. Quindi sostanzialmente si crea un circuito che per me, su questo mi assumo la responsabilità dell'espressione, un circuito autoreferenziale tra organo o sistema controllato e sistema controllante. E il problema diventa valutare la qualità del controllo in termini di collaborazione per correggere ciò che è disfunzionale. La sanzione, la responsabilità amministrativa, il danno erariale, l'intervento dell'organo inquirente ha poco a che vedere con questo sistema. E il raccordo non esiste, anzi il raccordo è un cortocircuito, così è stato detto ed è stato scritto, perché sono funzioni orientate verso finalità e utilità completamente diverse tra loro. Ora, ovviamente questa premessa mi serve a individuare una serie di tendenze normative che soprattutto nell'ultimo biennio sono molto evidenti e sono evidenti nella legislazione nazionale dipendente ovviamente dal contesto europeo e lo sono ancora più evidenti nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. Perché? Perché nella decreto legge 174 2012 o meglio conosciuto come legge 213 2012, cioè le prime disposizioni del governo Monti che rafforzano il sistema di controllo sulle autonomie territoriali. Non soltanto si allarga il paradigma dei controlli sui bilanci pubblici. Ma si dice qualcosa di più e di diverso rispetto a queste premesse sistematiche che finora hanno guidato la ricostruzione dei rapporti tra controllo e giuridizione di responsabilità. Perché si individuano una serie di punti molto specifici e penetranti all'interno dei quali le funzioni di controllo non dico che diventano quasi ausiliare strumentali o serventi nei confronti della sistema di responsabilità. Questo è una ricostruzione in eccesso. Però sicuramente recuperano un rapporto fisiologico con la sanzione. Cioè un controllo di diritto pubblico a rilevanza pubblica che sia meramente correttivo e collaborativo con la pubblica amministrazione. Come ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 39.14 e 40.14. Un controllo incompleto. Cioè i controlli di diritto pubblico devono essere multifunzionali, devono essere compatibili con il regime eventualmente autonomistico del soggetto controllato ma non possono escludere a priori un collegamento con la funzione di responsabilità. Questo in termini di ragionamento sulla consistenza del danno erariale che cosa significa? Significa che vi sono delle situazioni patologiche diffuse nella gestione dei bilanci nei quali ovviamente vi sono dei comportamenti stratificati nel tempo che portano a stati occulti di dissesto finanziario o a disavanzi occulti preliminari al dissesto finanziario nell'ambito dei quali non ha senso ragionare solo di correzione, di autocorrezione e di collaborazione con l'amministrazione per l'emendamento della disfunzione. Ma è molto importante riflettere anche sul raccordo con la funzione di responsabilità. E il legislatore indica anche una pluralità di situazioni normative nelle quali il raccordo con la funzione giuridizionale è naturale, fisiologica ed attivizzata. Io faccio soltanto due esempi e cioè i comportamenti in elusione del patto di stabilità con rappresentazioni di bilancio che sono fallaci e non veritiere e in questo caso è previsto un raccordo con la funzione giuridizionale e la combinatoria di una sanzione proporzionata alla entità degli emolumenti percepiti nella qualità di amministratore. Quindi questa è la prima fattispecie. La seconda fattispecie è invece un po' più complicata e soprattutto un po' più criticabile perché si tratta di situazioni nelle quali le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano la inesistenza o la inadeguatezza del sistema di controllo interno. Sulla base di questo accertamento si applicano delle sanzioni patrimoniali commisurate ovviamente alle indennità in godimento agli amministratori e ovviamente viene evocata la giuridizione di responsabilità. quindi tento di fare un quadro riassuntivo e poi vedo di concludere sulla dimostrazione del danno erariale. Quindi a me sembra evidente una forte tendenza del legislatore a operare con discontinuità normative. Nel senso che a un lato vi sono state tendenze normative sulle quali ho finora preferito non parlare però sono notorie. Delle tendenze normative limitative delle funzioni della Corte dei Conti soprattutto in cui si traducono in imputazioni di responsabilità amministrative. Recentemente però con un gioco contrapposto tra tendenze e controtendenze vi sono state disposizioni normative che hanno diffuso vincoli di bilancio quindi limiti gestionali e hanno tipizzato fatti specie di responsabilità amministrativa a prescindere dalla esistenza conclamata di un danno economico in senso differenziale. E poi ultima tendenza vi è un nuovo quadro da ricostruire in senso interpretativo che guida il nuovo raccordo tra i sistemi di controllo e le responsabilità di diritto pubblico. Quindi non più controlli nell'interesse esclusivo dell'amministrazione e meramente collaborativi per attivare meccanismi di autocorrezione ma controlli che fisiologicamente possono essere collegati a obblighi di denunzia del danno erariale e soprattutto a interventi del giudice della responsabilità amministrativa che quantifica il danno con riferimento alle indennità e ingodimento. Il danno economico è un danno che viene recuperato in una dimensione di tipo sanzionatorio e viene stimato con riferimento alle indennità e ingodimento. Allora vediamo di chiudere questa riflessione con delle conclusioni provvisorie che ovviamente poi mi riservo di riprendere nel momento in cui avviene questo scambio iniziale di opinioni. Allora qui vi sono due logiche ricostruttive che in maniera molto semplificata io potrei riassumere con queste osservazioni. E cioè si potrebbe dire che vi sono fattispecie di responsabilità amministrativa che sono vincolate all'accertamento del danno patrimoniale in senso differenziale. E questo diciamo è il quadro tradizionale che nasce dalla Clause Generale di Diritto Pubblico. Accanto a questa dimensione tradizionale nella lettura delle materie di contabilità pubblica vi sono invece una molteplicità di fattispecie nelle quali il legislatore ha imposto una evoluzione implicita del sistema delle responsabilità pubbliche accostando alla classica responsabilità per danno erariale una molteplicità tipizzata di fattispecie di natura sanzionatoria nell'ambito delle quali il problema non è l'accertamento del danno erariale ma è l'accertamento della infrazione di un limite inderogabile di legge accertato il quale si applica automaticamente la sanzione nella misura indicata dal legislatore. Tutto ciò è compatibile con la giurisdizione della Corte dei Conti? La compatibilità è segnata dall'articolo 103 della Costituzione perché le materie di contabilità pubblica sono ricongiunte ad altre materie indicate dal legislatore. Quindi vi sarebbe una evoluzione nelle materie di contabilità pubblica ma non un'espansione della contabilità pubblica una ricongiunzione della contabilità pubblica a materie accessive che comunque non le appartengono. Questo potrebbe essere un primo quadro ricostruttivo. Andiamo invece al secondo quadro ricostruttivo che a me sembra altrettanto interessante anche nella selezione dei dati giurisprudenziali. si potrebbe anche sostenere qualcosa di diverso. Cioè si potrebbe dire queste fattispecie attivizzazione normativa in realtà sono un rafforzamento nella protezione della integrità della finanza pubblica e questo rafforzamento in cosa si esprime? Nella addizione di una sanzione a una fattispecie che in sé deve avere una vocazione lesiva della integrità del bilancio pubblico. Quindi in un significato più diretto e più mirato. vi è comunque un danno economico questo danno economico è un danno che va accertato dall'organo inquirente quindi vi è una fattispecie nella quale il criterio differenziale opera perché vi è comunque un valore economico perduto e questo valore economico perduto però non deve essere soltanto rappresentato in termini di diminuzione di un bene già esistente nella pubblica amministrazione perché potrebbe essere un valore immateriale, potrebbe essere un interesse giuridico potrebbe essere anche un interesse conseguibile ma non conseguito per una condotta fallace quindi per una programmazione errata delle risorse di bilancio quindi il danno erariale in realtà non è soltanto perdita ma anche omesso conseguimento di un risultato o lesione di beni giuridici immateriali quindi in queste fattispecie attivizzazione vincolata vi potrebbe essere questa costante in ogni caso il danno economico vi è è un danno ovviamente da reinterpretare e da riempire con contenuti diversi si aggiunge la sanzione quindi le fattispecie attivizzate non sarebbero delle monali slegate e diffuse nell'ordinamento a discrezione del legislatore con una ricostruzione più o meno sistematica rimessa al giudice della contabilità pubblica perché comunque la matrice primigenia della giudizione è sempre la protezione della integrità della finanza pubblica nei valori esistenti e in quelli acquisiti la sanzione è un rafforzamento nella difesa del sistema quindi queste sono io direi le due chiavi di lettura andando a delle conclusioni provvisorie poi ovviamente mi riservo diciamo di dire qualcos'altro e anche di esaminare una serie di contesti normativi che in questo momento mi sembrano secondari ecco a me sembra importante una puntualizzazione recente della Corte di Cassazione e la sentenza 11.229 del 2014 vi indico la fattispecie e metto in evidenza un po' diciamo i tratti peculiari di queste affermazioni giurisprudenziali allora innanzitutto la controversia rimessa all'attenzione della Corte di Cassazione in sede ovviamente di impugnazione per motivi di giurisdizione riguarda la esecuzione dei lavori di ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari è una fattispecie abbastanza nota e diffusa dalle informazioni di stampa vi ricordo per chi non avesse memoria della fattispecie il ripascimento del litorale è stato eseguito in difformità dal capitolato di appalto la conseguenza è un deturpamento della bellezza naturale dei luoghi e la conseguenza è anche il fallimento di un impianto contrattuale cui valore supera i 4 milioni di euro quindi vi è un danno ambientale un danno patrimoniale diretto e in questo danno patrimoniale diretto il problema è stimarne l'entità allora cosa dice in senso molto sintetico la Corte di Cassazione innanzitutto specifica che il danno all'ambiente non appartiene più naturalmente alla giurisdizione della Corte dei Conti può essere via una legislazione specifica il problema però diventa l'accertamento e la stima del danno contrattuale e qui la Cassazione opera delle puntualizzazioni che a me sembrano molto significative perché sostanzialmente dice questo nel momento in cui si procede alla stima del danno erariale e alla imputazione della relativa responsabilità il problema non è applicare le norme di diritto civile sul regresso tra con debitori quindi il meccanismo non è accertare un'entità patrimoniale perduta e ripartire con logiche civilistiche il danno il problema è completamente diverso dice la Cassazione bisogna innanzitutto analiticamente individuare i costi sopportati inutilmente dal bilancio pubblico e poi sulla base di questo accertamento che comprende tutto quindi tutto il danno è compreso nei costi inutilmente liquidati dall'amministrazione quindi in questo contesto è necessario operare una imputazione di responsabilità a ciascuno dei concorrenti con una misurazione causativa dei comportamenti individuali quindi ciascuno risponde dice la Cassazione per la parte che vi ha preso nella condotta di gestione quindi a me sembra un forte richiamo alla concezione patrimoniale economica del danno pubblico e soprattutto un forte richiamo alla specificità della giuridizione di danno pubblico perché è vero che il danno erariale sorge da io vi ho detto nelle invarianti concettuali da una derivazione civilistica di natura extracontrattuale ma è anche vero che nel nostro sistema assume una sua specificità perché è un danno che si ricongiunge a responsabilità di tipo personale personali e soprattutto è una responsabilità che come dice la Corte Costituzionale deve fungere da sistema di incentivo e di sviluppo della buona amministrazione e non può diventare un sistema di inibizione ai comportamenti virtuosi di gestione quindi vi è un sistema che nasce nel solco della dimensione civilistica se ne allontana con delle specificità che a me sembra importante conservare ovviamente con queste perplessità che sono suscitate da tendenze legislative che obiettivamente diciamo nella ricostruzione di lungo periodo sono molto difficili da ricondurre al sistema però non vi è dubbio diciamo che l'opera della giurisprudenza è anche contraddistinta da queste utilità interpretative che non sono facili da conseguire però ci dobbiamo provare io mi fermerei qua in questo momento grazie per avermi ascoltato immagino che tocca a me prendere la parola ringrazio tutti di essere qui ringrazio in particolare la collega avvocato Roberta De Pretis che mi ha affidato questo incarico e questa relazione che ho accettato di buon grado visto l'argomento e vista anche la presenza autorevole del procuratore dottor Pilato che rivedo volentieri ci siamo scontrati o comunque sempre da un punto di vista processuale in una dialettica che necessariamente è su fronti contrapposti tra accusa e difesa e devo dire che tutto è sempre avvenuto con molta lealtà molta schiettezza e quindi anche oggi la mia relazione sarà improntata a questo tipo di di rapporto e di semplicità nel fare dei riferimenti anche molto concreti a quella che è la professione dell'avvocato e di chi si trova a difendere amministratori funzionari segretari comunali persone che sono accusate di danno erariale di questa figura che è un po' un fantasma ma anche un incubo per chi lavora all'interno della pubblica amministrazione che quotidianamente si deve cimentare e misurare con il timore di avere un'accusa per danno erariale e il timore di mettere delle firme di assumere degli atti di assumere delle responsabilità che non sempre sono misurate sotto un solo profilo di legittimità dell'azione amministrativa ma anche di eventuali esborsi che il dipendente è tenuto a sostenere nel momento in cui il danno erariale venga accertato e si concretizzi in una pronuncia e una sentenza di condanna mi sono anche chiesta di cosa deve parlare un avvocato di fronte al problema della dimostrazione del danno perché di norma la dimostrazione del danno incombe sulla procura regionale ed è la procura che formula l'accusa che fa l'indagine che trova tutti gli elementi per poter costruire una fattispecie di danno e una quantità e una tipizzazione del danno da poter portare e offrire a questi amministratori nell'ambito di dapprima un invito a dedurre che offre la possibilità di controdeduzioni immediate anche di un'audizione personale che è molto utile per capire per poter intuire quali sono state anche le valutazioni da parte dell'organo di accusa dall'organo inquirente e poter in questo caso offrire delle spiegazioni dei chiarimenti e dall'altro lato in sede processuale nel momento in cui l'invito a dedurre viene poi tramutato in un atto di citazione a giudizio e quindi ci si trova dinanzi ad un collegio giudicante che dovrà valutare effettivamente gli elementi dell'accusa e la consistenza e la dimostrazione del danno in un contraddittorio tra le parti allora i filoni principali sui quali articolare quella che è la dimostrazione del danno io li ho individuati in tre aspetti fondamentali in un problema di legittimazione in un problema di pienezza del contraddittorio in un problema poi della dimostrazione e della articolazione delle varie voci di danno che vanno ad integrare questo tipo di fatti specie ebbene sul problema della legittimazione è ovviamente non è una tecnica tipica degli avvocati quella di formulare delle eccezioni preliminari ma è anche un obbligo un dovere di difesa quello di cercare di dimostrare perché questo è il nostro compito la inesistenza del danno attraverso una serie di verifiche che riguardano anche l'esatta imputazione di questo danno ad un determinato soggetto e quindi la prima valutazione è quella di verificare se esiste una perfetta pertinenza una puntuale accusa nei confronti di queste persone di questi amministratori e funzionari e trovare in questo caso un effetto e una reazione che siano effettivamente puntuali alle volte risultano indicati nell'invito a dedurre o anche nell'atto di citazione dei soggetti che non avevano partecipato a determinate riunioni alla giunta comunale ad un'assemblea ad un organo nel quale sarebbe o risulterebbe maturata una voce di danno e quindi ovviamente dimostrare le straneità ai fatti l'assenza a quella seduta o a quella particolare riunione o alla mancanza di partecipazione a quella che è la catena concausale della determinazione del danno è un primo aspetto da affrontare da valutare e ovviamente potrebbe risultare anche risolutivo l'altro aspetto è poi quello relativo ad un argomento che perversa soprattutto negli atti difensivi nel momento in cui si vuole tentare di trovare un esimento una scriminante rispetto a determinate condotte nell'ambito della divisione della distinzione tra organo politico e organo di gestione dal momento che e questo dipende anche dalle normative dai regolamenti interni dalla maggiore o minore trasparenza di una organizzazione del lavoro all'interno delle singole amministrazioni vi può essere una commistione tra organo politico e organo di gestione che talvolta crea quelle zone opache dove effettivamente è difficile capire quali siano le dirette responsabilità e i soggetti coinvolti provo a fare riferimento a quella che è una sentenza della Corte dei Conti Toscana la 1033 del 2007 Presidente Guasparri dove si fa chiaramente richiamo all'articolo 3 della legge 2094 sul funzionamento della Corte dei Conti come novellata poi dalla legge 639 del 96 e si prevede espressamente che nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici e amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede e quindi emerge un aspetto particolare li abbiano approvati ovvero ne abbiano approvato o consentito l'esecuzione viene cioè individuato fin da subito un elemento scriminante legato all'organo politico purché vi sia la buona fede e quindi in questo caso la dimostrazione del danno verte sulla verifica di un elemento soggettivo e di condotta di aspetti comportamentali all'interno dell'azione e all'interno di un determinato procedimento amministrativo fermo restando che si tratta di un esimente che viene applicata solamente a quegli organi che siano costituiti da assemblee elettive e quindi regioni, province comuni comunità montane e via dicendo e non ad altro tipo di ente ma al di là di questo aspetto preliminare vi è poi un altro elemento fondamentale all'interno della fattispecie della dimostrazione del danno che è quella di una verifica della pienezza e della completezza del contraddittorio e questo è un aspetto importante perché è uno dei cardini sui quali si basa tutto il sistema processuale quindi la tutela le garanzie e una pienezza dell'articolo 24 della Costituzione nell'ambito di un diritto inviolabile alla difesa fa sì che anche il contraddittorio possa essere un elemento importante non per una semplice applicazione del principio che ma al comune mezzo gaudio ma perché nella dimostrazione del danno la presenza di tutti gli attori che hanno partecipato ad una determinata sequenza che poi è causativa di danno devono essere presenti nell'ambito di quello che è il simultaneo processo quindi all'interno della medesima fattispecie e della medesima anche temporale imputazione di quel danno succede invece questo parlo per esperienza poi il procuratore ci darà anche la sua opinione su questo aspetto che talvolta l'invito a dedurre ma anche l'atto di citazione a giudizio possono presentare delle carenze vengono portati evocati a giudizio solamente alcuni soggetti dell'amministrazione magari il segretario comunale magari la giunta ma non il responsabile dell'ufficio contabile o dell'ufficio tecnico cioè altri soggetti che possono aver preso parte ciascuno ovviamente per quanto di sua competenza ad una ad una fase a quei vari segmenti che compongono poi l'azione amministrativa e il procedimento amministrativo e allora che cosa accade accade che un avvocato è tenuto necessariamente nell'ambito di un di una difesa completa e nell'esercizio quindi delle sue funzioni a chiedere la chiamata di terzo e cioè all'integrazione di questo contraddittorio la chiamata di terzo nell'ambito del processo contabile è leggermente diversa rispetto a quella civile dove si chiede si ottiene il differimento dell'udienza e normalmente c'è una sorta di automatismo nel concedere la compresenza del terzo salvo poi rispondere eventualmente qualora questa sia stata incauta o infondata e invece nel processo contabile è rimessa la discrezionalità dell'organo giudicante il quale invocando l'articolo 107 del codice procedura civile ma anche delle norme specifiche di quella che è la disciplina della corte e il regio decreto 1038 del 1933 si riserva un'ampia discrezionalità nel concedere l'integrazione del contraddittorio che normalmente è esclusa quando non esiste un litis consorzio necessario che è difficile poter vedere anche perché alle volte il concorso nell'azione non è così chiaro e ben delineato e tende a rinviare il problema a quello che sarà poi il frutto finale di tutta l'attività processuale e cioè la sentenza e allora in questi casi si possono trovare due forme che inficiano quella che è una vera e propria dimostrazione del danno e cioè da un lato una sentenza che si può concludere con una sorta di richiamo indiretto virtual una sorta di condanna virtuale al soggetto che è rimasto estraneo al processo e che non ha avuto in questo caso modo di potersi difendere e di poter dire la sua quindi il processo viene celebrato per certi versi alle sue spalle ma semplicemente con un risultato finale che è comunque non corretto vale a dire con una riduzione in applicazione del potere riduttivo a quello che è l'accertamento dell'importo di danno che potenzialmente doveva gravare a suo carico ma che non viene recuperato ai fini dell'erario che quindi potrebbe costituire una sorta di danno erariale nella fase di accertamento del danno erariale cioè se io dico il danno sarebbero di 5.000 euro però nel momento in cui non c'è il responsabile dell'ufficio tecnico faccio pagare 4.000 euro e beh quei 1.000 euro che non vengono poi adebitati a nessuno costituiscono un mancato introito per le casse comunali l'altro sistema che potrebbe essere considerato non corretto è invece quello in cui la sentenza dell'organo giudicante prevede effettivamente dopo aver effettuato tutta l'attività processuale distruttoria che c'erano effettivamente delle responsabilità in carico ad un altro soggetto e allora chiude comunque quel tipo di procedimento quel procedimento e demanda all'organo inquirente alla procura regionale il compito di aprire un nuovo fascicolo con riferimento a questi altri soggetti che erano rimasti estranei anche questo anche questo aspetto crea un problema nella pienezza della dimostrazione del danno e nella sua articolazione tra i vari attori di questa azione perché mi è capitato e mi è capitato anche casualmente di essere presente per una pura coincidenza tra il pubblico nel momento in cui si discuteva l'appendice di un vecchio procedimento ed è gioco facile per chi si trova da solo senza il contraddittorio senza un contraddittore fornire delle argomentazioni che possono essere parziali o comunque deviate e quindi anche in questo caso produrre in questa segmentazione del processo in questa carenza del contraddittorio un vulnus nei confronti di tutti nei confronti delle parti che hanno visto celebrare la prima parte nei confronti di quelli che subiscono l'appendice successiva e nei confronti di quello che è l'obiettivo finale vale a dire il recupero e la compensazione del danno erariale ecco sempre sul tema della chiamata di terzo un altro aspetto mi ricollego a quello che ha detto anche il procuratore poco fa è quello relativo ai controlli perché se nella catena delle persone e dei funzionari che operano attivamente è anche facile poter ricostruire chi ha fatto che cosa e quindi individuare i soggetti sui quali puntare il dito puntare l'accusa vi è uno sfondo che rimane quasi sempre intoccabile o comunque considerato indenne da profili di responsabilità che è quello relativo ai revisori dei conti più volte all'interno di comparsi di costituzione si è chiesto di integrare il contraddittorio chiamando non solamente un altro funzionario o un altro assessore o il sindaco se invece è solo il segretario ma si è chiesto di chiamare direttamente a rispondere del danno anche la figura del revisore dei conti e raramente questo accade perché si tratta effettivamente di soggetti che hanno un ruolo particolare all'interno della funzione amministrativa lo dico anche con retaggio di chi come nel mio caso ha lavorato per 30 anni in una pubblica amministrazione e quando pensi al problema del controllo è più facile pensare alla corte dei conti e alla procura regionale che non al revisore interno sono figure che normalmente hanno un'indenità fanno una relazione che presentano in consiglio di amministrazione al momento dell'approvazione del bilancio e poi spariscono mi vengo a pensare se non siano anche una fonte di danno erariale nel momento in cui non esercitano in maniera pregnante puntuale quella che è la loro funzione ho trovato un articolo molto interessante molto bello sulla funzione dei revisori dei conti pubblici di Paolo Luigi Rebecchi il quale si è molto concentrato su questo aspetto e ha proprio segnalato quella che è anche l'evoluzione normativa di queste figure le quali non possono più inizialmente erano considerate estranee alla fattispecie ci sono delle sentenze della corte dei conti in particolare della Toscana che lui ha commentato dove si dice devono rimanere stranei perché in fondo la legge attribuisce ai revisori dei conti una verifica della legittimità degli atti ma una semplice vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria per questo motivo rimangono sullo sfondo i margini di tutte quelle che sono le catene di responsabilità che invece toccano chi opera attivamente all'interno dell'amministrazione nella sua nella sua dissertazione nell'articolo che ha scritto è invece fornito una prospettiva diversa affermando che i revisori dei conti non hanno più una posizione statica di controllo nella gestione ma l'attività di revisione economico-finanziaria dell'ente in questo caso va modernata va innovata anche alla luce di quella che è stata l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione e demandando in questo caso all'ente locale anche in base all'articolo 239 del testo unico sugli enti locali la funzione di elaborare regolamenti interni o statuti che possano prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori queste persone devono avere un ruolo più diretto e più collaborativo e anche di vigilanza attiva all'interno dell'attività e dell'amministrazione altrimenti incorrendo in quelle che sono considerate delle condotte omissive parimenti fonte di danno o comunque fonte di responsabilità detto questo arriviamo poi al punto centrale che quando non siamo riusciti a escludere l'accusa dicendo il mio assistito non c'entrava non c'era era assente è un organo politico o comunque non ha partecipato a questa fattispecie il contraddittorio non è completo integratelo portate altri soggetti e questo non per fare una funzione di spia ma semplicemente di completezza di un contraddittorio quando questi scogli non sono stati sufficienti a sbarrare ad evitare quella che è la fattispecie di danno e beh ci ritroviamo all'interno di una difesa che deve necessariamente penetrare all'interno dell'elemento di danno che viene contestato e qui entriamo in quelle fattispecie tradizionale del danno diretto e l'ammanco la maggior spesa il minore introito il debito fuori bilancio la spesa improvvida che viene effettuata in violazione di vincoli di soglie e di limiti fissati dalla legge ma anche delle nuove figure di danno che sono state formulate dalla giurisprudenza nell'ultimo periodo faccio riferimento al danno all'immagine al quale ha fatto cenno anche il procuratore il danno da disservizio il danno da perdita di chance il danno da tangente il danno da mobbing cioè figure completamente nuove all'interno di un panorama che fino a qualche anno fa qualche decennio fa era limitato effettivamente ad una posta di pura contabilità da reavere tra posizioni strettamente riferite ad un danno patrimoniale misurabile a livello di bilancio allora nell'ambito di queste figure di contorno è un corollario importante perché assumono quella funzione anche sanzionatoria di cui parlava il procuratore e i criteri di dimostrazione del danno la prova del danno seguono delle strade particolari proprio collegate anche a quella che è la particolarità del danno stesso ebbene il danno all'immagine è intuitivo si capisce qualcuno ha avuto una condotta riprovevole o comunque ha causato un danno erariale all'interno di un'amministrazione sembra quasi automatico dire ti ricarico quel danno sotto forma di senzione anche a fronte dell'immagine lesa da parte dell'istituzione ma il percorso dimostrativo non è così così libero la legge ha tracciato dei solchi abbastanza vincolanti cioè da un lato si prende spunto a quella che è la responsabilità per danno erariale prevista dall'articolo 7 della legge 97 del 2001 con riferimento al collegamento tra il processo penale e il processo contabile e dove è previsto che necessariamente la sentenza di condanna irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti debba essere comunicata al procuratore regionale della Corte dei Conti il quale entro 30 giorni deve formulare un procedimento di avviare un procedimento di responsabilità ma poi con riferimento sempre al danno all'immagine è stato previsto qualche cosa in più e cioè questo articolo è stato abbinato dalla legge 103 del 2009 anche a delle particolari fattispecie di reato per cui non è che qualsiasi condanna irrevocabile porta automaticamente all'applicazione del danno all'immagine ma è necessario che siano state delle condanne riferite a reati previsti dal caposecondo del codice penale vale a dire i reati nei confronti dell'amministrazione in tutti gli altri casi non si verifica la fattispecie di danno all'immagine quindi non può essere in questo caso applicata all'interno del processo contabile una sentenza simpatica significativa su questo punto che voglio illustrare è quella relativa alla sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana la 80 del 2013 riguarda in questo caso un un maresciallo della guardia di finanza distaccato presso la procura della repubblica di palermo il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di quell'articolo 326 del codice penale rivelazione del segreto d'ufficio intrusione in un sistema informatico via dicendo la procura regionale ha fatto anche appello incidentale ritenendo che poi la condanna fosse troppo esigua rispetto a quanto era stato richiesto ma la sentenza d'appello ha confermato questo tipo di e anche l'entità della condanna ritenendo che la condotta avesse tutti i requisiti effettivamente previsti dalla legge e cioè il reato la sentenza era divenuta irrevocabile il reato era tra quelli previsti effettivamente dalla legge 103 del 2009 e vi era stato un elemento in più che è stato ritenuto fondamentale ed essenziale perché la fattispecie fosse completa vale a dire clamor fuori e cioè quella fuoriuscita della notizia dalle mura dell'ambiente lavorativo che effettivamente aveva causato e integrato l'effettiva lesione dell'immagine e della dignità dell'istituzione quindi l'organo di informazione che aveva dato la notizia di questo tipo di reato della condanna era diventato parte integrante nella dimostrazione di questo danno allorché solamente la presenza di organo di stampa e di una propalazione di questa informazione e di queste notizie potevano effettivamente integrare la fattispecie addirittura era stato chiesto che il danno all'immagine fosse attribuito quindi il ristoro risarcimento non tanto alla guardia di finanza quanto al ministero della giustizia visto che questa persona aveva commesso il reato mentre si è trovato presso la procura della repubblica ma la sentenza dice no appartenendo ad un corpo in questo caso al corpo della guardia di finanza il ristoro va attribuito direttamente da parte del funzionario infedele al corpo che ha subito la lesione in quanto tale in questo caso appunto la guardia di finanza è stato anche chiesto di poter compensare il danno all'immagine e quindi un'altra forma di dimostrazione o comunque di riparazione attraverso la destituzione dal corpo ma questa è stata respinta dalla sentenza e dall'organo giudicante nel momento in cui si ritiene che la destituzione sia un procedimento disciplinare che deve andare in parallelo con quelle che sono altre forme di sanzioni non applicabili nella fattispecie e se il danno all'immagine è così vincolato quindi dalla necessaria presenza di presupposti inderogabili condizio sine qua non affinché venga poi calcolato e la commisurazione avviene in base all'articolo 1226 del codice civile secondo una valutazione equitativa da parte del collegio giudicante su iniziativa o comunque su una commisurazione in linea di massima indicata dalla procura regionale diverso è il danno da disservizio è una figura ancora più evanescente perché in questo caso non c'è la sentenza di condanna non c'è un reato non c'è un qualche cosa di tangibile di concreto ma va costruito attraverso una prova pregnante precisa e concordante che deve essere effettuata in questo caso dalla procura regionale il danno da disservizio è curioso nel senso che a me è capitato personalmente un caso di una citazione a giudizio solo per danno da disservizio riferita ad esempio ad una cancelleria di un giudice di pace che era stata trovata particolarmente in disordine per cui attraverso la mentele interne la mentele dell'utenza e un'ispezione da parte degli uffici regionali questa cancelleria era stata considerata macchiata di una particolare trascuratezza fascicoli nel corridoio fascicoli su un divanetto fascicoli sulla sedia carte che uscivano in maniera disordinata pur non essendo vistata una segnalazione di danno specifico per la perdita di un fascicolo o per una menomazione nella difesa di un determinato processo il danno da disservizio è stato considerato tale ed effettivamente è intervenuta la condanna sia del giudice di pace sia del cancelliere paradossalmente ed è questa un po' la curiosità di questo tipo di danno il danno da disservizio ho trovato una sentenza la 241 2013 della sezione centrale d'appello relatore presidente De Marco già presidente è qui a Trento e quindi conosciamo anche la capacità e la profonda conoscenza di questo grande magistrato ebbene questa sentenza fa riferimento ad un'ipotesi di danno da disservizio particolarmente interessante vale a dire un gruppo di funzionari che avevano formato una sorta di cartello e che sono stati condannati con sentenza irrevocabile per concussione promettevano all'interno dell'arsenale militare di Brindisi dei pagamenti molto veloci e per fare questi chiedevano ovviamente del denaro la sentenza era irrevocabile i fatti sono stati accertati conclamati pacifici però il danno da disservizio non è stato considerato tale la corte d'appello li ha completamente assolti dicendo che non è stato dimostrato il preteso danno da disservizio ma anzi veniva escluso perché l'eventuale presunta d'azione di denaro elargita in favore di questi signori non solo non aveva arrecato alcun danno né diretto né indiretto alle casse dell'amministrazione ma aveva addirittura reso particolarmente efficiente quel servizio perché essendo pagati per poter svolgere le funzioni di ufficio pagavano velocemente non solamente le fatture o comunque le posizioni che avevano fruttato queste utilitas illegittime ed illecita ma anche tutte le altre quindi era all'interno di questo conclamato reato di concursione un ufficio che funzionava molto bene il disservizio non c'era e quindi mettiamo da un lato quello che è il paragone del disordine della cancelleria del giudice di pace con reati di questo tipo ma che come la mafia talvolta risultano più efficienti che nemmeno le amministrazioni sane ma lenti o comunque macchiate da altro tipo di patologia danno da disservizio sempre in questo caso De Marco per una sentenza che era stata del 2006 quindi quando si trovava a Trento viene definito come una fattispecie espansiva idonea a recepire le possibili varie tipologie di illecito di natura sia dolosa che colposa e quindi gli uffici che non funzionano bene il disservizio che viene creato in generale può essere fonte di una valutazione e di una valutazione di danno anche la perdita di chance che era stata definita anche in precedenza come una sorta di forma sanzionatoria non ho potuto recuperare o ci sono degli ammanchi o comunque non ho avuto quell'utilità che avrei potuto ottenere se la gestione fosse stata più efficiente come la commisuro questa chance rispetto al valore di bilancio attraverso una percentuale ma qui sia nel caso di danno da disservizio sia nel caso da perdita di chance vi sono delle assoluzioni ma non perché il fatto non sussista ma perché la procura regionale non era stata particolarmente precisa e puntuale nel formulare l'accusa nel dimostrare l'esistenza del danno e quindi è fondamentale che ci sia nell'incipit di tutta l'azione di responsabilità amministrativa una formulazione del capo di imputazione chiamiamolo comunque dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione molto preciso perché altrimenti è molto facile fuoriuscire da quelli che sono la dimostrazione del danno entriamo e poi mi avvio anche alla conclusione in quelli che sono altri aspetti del danno vero e proprio del danno diretto fermo restando che quelli che ho appena citato immagine disservizio perdita di chance sono un corollario rispetto ad un blocco invece molto più più forte macigno sul quale normalmente viene articolata l'azione di responsabilità e qui altri elementi di dimostrazione del danno sono quelli riferiti all'elemento soggettivo è fondamentale all'interno del processo contabile dimostrare che c'è dolo o colpa grave perché se solamente troviamo la colpa lieve o comunque quelle forme di trascuratezza che non raggiungono la soglia ritenuta tale per configurare la colpa grave automaticamente non dovrebbero esservi delle conseguenze salvo i casi in cui le sanzioni siano previste direttamente ex legge con queste innovazioni normative più recenti ebbene che cos'è la colpa grave non è facile definirlo perché nell'ambito della commisurazione della colpa è un po' anche quello che accade nel diritto penale è necessario effettuare tutta una valutazione di soglie e di condotte non è solo la negligenza imprudenza imperizia che è tipica del processo penale ma viene arricchita anche da altre particolarità ad altri aggettivi diciamo la superficialità la leggerezza del comportamento il grado di anomalia di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi il venir meno di lealtà e di diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni ci sono citazioni di vario tipo ma l'elemento fondamentale è proprio questa particolare trascuratezza e la parola trascuratezza non la dico a caso perché molto spesso nell'invito a dedurre o nell'atto di citazione si trova e sembra particolarmente forte rispetto alla negligenza imprudenza imperizia perché dimostra effettivamente una condotta omissiva o commissiva particolarmente grave particolarmente censurabile per ottenere questo tipo di conseguenza altro aspetto oltre alla colpa al dolo è anche quello relativo ad altre forme chiamiamole attenuanti che potrebbe essere utilizzata per limitare l'entità del danno perché questo è l'obiettivo in sede processuale e invocare in questa ipotesi la compensatio lucricum danno vale a dire un altro istituto che è a carattere generale e che prevede ovviamente la possibilità di poter effettuare una sorta di compensazione tra il dare e avere e quindi è lidere quella che è l'entità del danno dimostrando o provando nel modo più efficace possibile anche delle utilità che comunque sono conseguite da determinate condotte una sentenza che sembra essere abbastanza isolata nel panorama è quella della corte lombarda la 159 del 2009 dove per un comune della regione lombardia la corte ha assolto amministratori e segretari comunali si erano succeduti anche nel tempo accusati di aver arrecato un danno erariale per una serie di assunzioni illegittime di conferimenti di incarichi e qui si è ritenuto che la situazione di emergenza la necessità di quel particolare momento storico di quella particolare situazione in cui versava il comune in quel momento meritasse una esclusione del danno proprio perché queste spese ancorché avvenute in modo illegittimo in modo particolarmente diciamo allegro trovavano comunque una compensazione nella utilità offerta alla collettività garantendo quelli che erano i servizi dell'amministrazione comunale dico isolata perché di norma la corte centrale d'appello ha dato una definizione un'applicazione molto restrittiva della compensazione del curicum danno e anche in questo caso va dimostrata dalla difesa in maniera puntuale e precisa per poter quantomeno limitare quella che è l'applicazione del danno un altro elemento relativo alla dimostrazione del danno è poi il raccordo tra il processo penale e la giurisdizione della magistratura contabile beh in questo caso il riferimento riguarda l'articolo 652 del codice procedura penale una norma che si è prestata a varie interpretazioni non facile da applicare e comunque piuttosto ostica ma nella quale si prevede che il giudicato penale possa fare stato o meno all'interno del processo civile o amministrativo ebbene vi sono dei casi in cui la piena soluzione in sede penale anche con la formula il fatto non sussiste possa avere comunque dei risvolti in ambito contabile poiché la presenza della sentenza di assoluzione di per sé non scrimina automaticamente quelle che possono essere quelle condotte di trascuratezza di negligenza di imprudenza di imperizia vale a dire quella colpa grave che è una soglia inferiore al dolo necessario in ambito penale ma che comunque offrono uno spunto per per l'attività in ambito erariale ebbene c'è una sentenza anche interessante la 1525 del 2008 in questo caso la Corte dei Conti del Lazio con riferimento al comportamento di una serie di agenti di polizia e funzionari del CONI i quali facevano transitare dai loro conti correnti tutta una serie di somme relative al CONI sono stati assolti pienamente assolti dalla Corte d'Appello penale nel momento in cui sono riusciti a dimostrare che queste somme transitavano in via temporanea erano dei prestiti che venivano poi restituiti o comunque dei risarcimento del danno ma si parla di più di un milione di euro un milione duecentomila euro la pronuncia in sede penale è stata la piena soluzione perché il fatto non sussiste ma la procura regionale ha avviato comunque un procedimento proprio per la particolarità di una condotta che veniva considerata comunque riprovevole ma qui l'errore della procura regionale è stato quello di limitarsi a depositare la sentenza penale e i fatti come ricostruiti in sede penale e la Corte d'Appello ha poi in ogni caso riformato la sentenza ritenendo e anche in primo grado questo è avvenuto ritenendo che non vi fosse una prova precisa e puntuale su questi aspetti dato questo quadro d'insieme butto delle pillole che poi offrono lo spunto sicuramente al procuratore dottor Pilato di poter intervenire e di e di porre magari eventualmente dei correttivi e riguardano poi quelle che sono le fatti specie concrete di danno perché finora abbiamo parlato di quello che cos'è il danno come lo dimostriamo come lo computiamo come si rapporta con le sentenze con i vincoli con le sanzioni ma poi ci sono le singole fatti specie che non sono più lo schema tradizionale quello della consulenza perché quando si dice consulenza automaticamente viene in mente il danno erariale e all'interno di una pubblica amministrazione la consulenza assume comunque un aspetto delicato non voglio dire patologico ma delicato nell'assunzione di questo tipo di spesa la dimostrazione o comunque la possibilità di evitare di incorrere nel danno erariale nasce da quella che è anche la dimostrazione del bisogno di ricorrere a queste consulenze e quindi l'abilità nello scrivere delle delibere complete delle determinazioni a seconda delle entità e della situazione complete che diano una piena motivazione delle ragioni di ricorrere a forze esterne risponde non solamente a quel principio generale di motivazione dell'atto e del provvedimento amministrativo ma anche di quelle condizioni di causa di forza maggiore o di bisogno di formazioni specialistiche o di situazioni di emergenza come dicevo nel caso di quel comune milanese tali da poter giustificare il ricorso a delle forze esterne perché altrimenti vincoli di legge vincoli di bilancio impongono necessariamente la convivenza e la composizione di tutta l'attività amministrativa con le forze che un ente possiede in proprio ora nelle consulenze ritroviamo però dei giudizi anche in questo caso molto variegati perché alle volte vengono chiamati in causa dei piccoli comuni perché ricorrono all'uso di un consulente esterno magari in materia tecnica e via dicendo tralasciando forse quelle che sono delle fonti molto più ampie che meriterebbero una valutazione sto pensando ai casi di quei dirigenti di grandi enti che vanno in pensione escono dalla porta rientrano dalla finestra con delle consulenze molto ricche e ci si chiede se veramente l'infungibilità di queste persone sia veramente tale quando esistono dei vice quando esistono altri dirigenti che potrebbero prendere il loro posto è da capire anche in questo caso come vengono formulate e articolate le motivazioni di questi provvedimenti si pensi agli enti che hanno delle avvocature interne e che spesso e volentieri con delle delibere che danno una motivazione assolutamente stringata integrano il collegio difensivo con degli avvocati esterni che costano parecchio che non giustificano perché le avvocature di alcuni enti sono particolarmente non solo ricche di persone ma anche di persone molto capaci e talvolta io non penso alla corte costituzionale dove effettivamente il procedimento è molto particolare ma il TAR o il diritto del lavoro non giustificherebbero non giustificano sempre questa integrazione del collegio difensivo ma se lo fa non si trova molto spesso nelle deliberazioni una motivazione pregnante che giustifichi l'eccezione rispetto alla regola gli appalti quando si parla di appalti pensare al binomio appalto-corruzione o appalto-danno erariale sembra quasi un automatismo perché è un settore come si diceva di fibrillazione all'interno del sistema normativo nella stesura del bando e qui c'è una fattispecie penale tipica all'articolo 353 bis quando il bando viene commisurato a delle esigenze specifiche durante lo svolgimento della gara e quindi la classica ipotesi di turbativa ma anche nell'esecuzione dell'appalto delle varianti che sono delle forme occulte su rettizie per giustificare dei ribassi abnormi in sede di aggiudicazione le proroghe abbiamo delle fattispecie conclamate di proroghe che durano anche 10-15 anni di uno stesso contratto senza che vi sia stata più una gara in quel lasso di tempo e su questo ovviamente la dimostrazione del danno sta nel concetto di proroga perché a meno che non sia particolarmente specifica e particolarmente ben motivata perché ad esempio la gara si sta per concludere quindi necessariamente una proroga tecnica è ammissibile e è concepibile ben diverso dall'ipotesi in cui la proroga diventa patologica e l'altro caso è quello relativo alla mancanza di gara attraverso delle surrettizie e informazioni di infungibilità di beni soprattutto nella sanità dove le ortoprotesi o altro tipo di apparecchiature sono facilmente spacciabili come esclusive e uniche in violazione dei principi di concorrenza i tributi locali altra piaga altra situazione nella quale il danno erariale richiede una sua dimostrazione diversa da altri fatti specie società concessionarie che raccolgono e non riversano per l'intero i tributi alle amministrazioni comunali o un'altra situazione abbastanza nuova ma che sta interessando in particolar modo la nostra provincia è quella relativa ad alcuni beni classati come categoria D dighe bacini centrali idroelettriche tralicci sui quali viene calcolata un IMO che è gettito fondamentale per delle amministrazioni comunali che devono avere diritto a percepirla in una esatta entità invece si assiste in maniera abbastanza frequente a quelle che sono delle rendite della commisurazione di rendite catastali irrisorie bassissime che ovviamente fanno agio alla società produttrice di energia o a chi partecipa a queste società partecipate ma molto meno ai comuni che hanno un cespite d'entrata particolarmente meno matto ma paradossalmente che deve rispondere di danno erariale è il comune perché non si è fatto parte attiva nel controllare l'esatta determinazione di queste rendite perché magari si è lasciato scappare i cinque anni di prescrizione nel effettuare degli accertamenti tempestivi e nel provocare magari anche dinanzi alla commissione tributaria quella che è un nuovo accertamento di quelle rendite quindi altre figure di danno erariale che richiedono una dimostrazione molto più specifica proprio in relazione a questo tipo e a questa fattispecie di danno i finanziamenti pubblici che arrivano dai fondi europei la legge 185 del 2000 ci ha sfornato tutta una serie di finanziamenti PON POR FES FSE e via dicendo che sono forme di contribuzioni che vengono date ai privati ma che anche in questo caso sono fonte di danno erariale e qui la prova la prova del danno la dimostrazione del danno non può che derivare da quella di un attento studio delle norme che regolano queste contribuzioni le rendicontazioni le modalità in cui queste rendicontazioni vengono rese le forme anche di di documenti che vengono prodotti per questa per questa fattispecie l'onne incomprensività della retribuzione del dipendente pubblico un'altra situazione particolare negli ultimi anni oltre allo stipendio le classiche straordinarie che costituivano una voce accessoria sono nati ma questo per effetto della contrattazione collettiva delle voci particolari l'indennità di posizione l'indennità di risultato la posizione organizzativa penso ad esempio al sistema universitario così che il concetto conto terzi vale a dire delle commesse di natura commerciale che consentono di ottenere dei finanziamenti dove un margine chiamato utile può essere redistribuito su quel personale e su quei dipendenti che hanno collaborato a quella particolare commessa ma il tutto nelle otto ore di lavoro ordinarie quindi confliggono con quello che potrebbe essere invece l'accessorietà della retribuzione e anche in questo caso la dimostrazione richiede un percorso autonomo specifico collegato a quella che è la fattispecie erariale di riferimento ancora due casi e poi chiudo perché credo di avervi annoiati abbastanza il danno ambientale è stato fatto un cenno il danno ambientale è importantissimo perché va detto che ogni tanto ci si fa anche del male per cui da prima si diceva che la giurisdizione era esclusiva della Corte dei Conti poi è stata demandata al giudice ordinario con un fallimento totale di quelli che sono i recuperi dell'effettivo danno ambientale con il codice ambientale 156 del 2006 mi sembra è stata introdotta una competenza reintrodotta diciamo una competenza della Corte dei Conti nel momento in cui il ministro sollecita il procuratore regionale alla determinazione di quello che è il danno ambientale con una clausola di salvaguardia per fortuna perché poi il ministro magari si dimentica per cui il procuratore può autonomamente avviare questo procedimento e quindi non vi è una condizione di procedibilità nella segnalazione da parte del ministero però anche in questo settore i mega impianti voltaici o comunque situazioni che hanno degli effetti particolarmente dannosi creano delle fattispecie perverse per cui anziché seguire il procedimento quello complesso che richiede la via la valutazione di impatto ambientale la VAS sulla valutazione ambientale strategica e via dicendo si va a segmentare una serie di lavori segmentandoli si rimane al di sotto determinate soglie è sufficiente una semplice dia e quindi il danno ambientale è di facile dimostrazione allorché il frazionamento non è mai solamente quello degli acquisti dei beni o dei mobili degli arredi di un comune ma anche di fattispecie più delicate le partecipate e poi chiudo le società partecipate sono io credo una vera e propria piaga dal momento che se c'è danno erariale la proliferazione di questi enti che per taluni sono considerati forme di efficienza ma in realtà sono moltiplicazione di gettoni di attribuzioni di nicchie dove effettuare consulenze facili o assunzioni che possono essere anche in deroga a dei classici criteri del concorso dell'articolo 97 della Costituzione ebbene anche sulle società partecipate la situazione è particolarmente aspre e difficile e la Corte di Cassazione non ha per nulla aiutato non ha aiutato nemmeno la Corte dei Conti perché se fino al 2004 era possibile pensare ad un controllo diretto da parte della Corte dei Conti del danno erariale con le sentenze del 2009 e successive questo è stato escluso prevedendo un percorso di dimostrazione del danno che è un vero e proprio labirinto e cioè anche qui una forma paradossale si considera responsabile del danno il socio pubblico che non ha vigilato sull'attività della società partecipata il socio del comune o della provincia e quindi è necessario avviare un'azione civile nei confronti di questi soggetti i quali invocano necessariamente la prescrizione tipica del processo civile quindi in sede di magistratura ordinaria con possibilità di rivalsa nei confronti dei diretti responsabili delle società partecipate una proliferazione una somma di processi che dilungano notevolmente i tempi e che di fatto hanno un effetto dissuasivo su quella che è la vera e propria determinazione del danno ultimi eventi e poi chiudo veramente le spese pazze della regione e su questo credo che la dimostrazione possa essere anche abbastanza facile le mutande verdi piuttosto che la cravatta colorata piuttosto che la rivista pornografica hanno un effetto immediato anche se qualcuno ci prova a dimostrare che sono necessariamente utili per svolgere la funzione di consigliere i vitalizi e poi veramente chiudo altra voce che potrebbe dico potrebbe parlo al condizionale costituire una fonte di danno erariale e qui si apre tutto un problema annoso dell'indebito del recupero dell'indebito della natura di queste elargizioni se hanno una natura assistenziale pensionistica o meno e anche in questo caso la dimostrazione del danno risulta particolarmente ardua particolarmente importante e non si può che dire non c'è che da augurare buon lavoro alla procura regionale e fornire l'aiuto possibile all'interno di una determinazione del danno che oltremodo va riegata ma che richiede un aspetto importante vale a dire non solo la dimostrazione del danno ma anche la volontà di una reale verifica della immersione del danno e quindi cercare all'interno dei meandri soprattutto delle grandi amministrazioni dove la presenza di più dirigenti di una segmentazione dei processi e dei procedimenti rende sempre più difficile poter individuare quelle fattispecie che hanno effettivamente dei risvolti di patologia e allora viene da sorridere quando si pensa alla citazione a giudizio di un segretario comunale perché non ha fatto la rinegoziazione del mutuo e quindi ha dovuto pagare 600 euro di interessi più alti rispetto ad altro magari in un piccolo comune dove il personale è quello che è si chiede un bilanciamento e nel bilanciamento ovviamente tanto equilibrio grazie aggiungo qualcosa e poi se c'è qualche intervento come sì insomma è un po' complicato il quadro che è stato offerto dall'avvocatose è molto magmatico provo un po' a dire qualcosa io razionerei un po' i campi di esame innanzitutto andrei sulla struttura del processo perché ci sono molte osservazioni che riguardano la chiamata del terzo e la causalità omissiva imputabile eventualmente ai revisori dei conti poi vi sono una serie di osservazioni sulle categorie puntuali di dannerariale quindi immagine di servizio perdita di scianze con riconduzione a fatti specie tipiche e poi alcune considerazioni vorrei fare sulla colpa grave sulla colpa professionale perché mi sembra un campo molto scivoloso all'interno del quale gli accertamenti probatori sono sempre molto difficili ma sono rilevanti sull'esito del giudizio innanzitutto io direi questo è bene aver chiaro un panorama normativo nell'ambito del quale la corte dei conti ha poche responsabilità e cioè la corte dei conti opera con strumenti processuali assolutamente risalenti nel tempo perché questo è corretto dirlo anche se ogni volta che io mi presento nei dibattiti e nei seminari non viene messo in evidenza il processo contabile è l'unico processo che attende una riforma strutturale in Italia abbiamo reiteratamente riformato il processo penale abbiamo avuto più riforme del processo civile il codice amministrativo ha normato il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato la giudizione tributaria ha avuto una riforma strutturale importante la corte dei conti ha una legislazione processuale risalente l'unica legislazione puntuale che ha tentato di ammodernare la fase preprocessuale dell'invito a dirlo risale al 94 noi nell'ambito di questo tessuto normativo anacronistico e sicuramente diciamo inadeguato ai principi del giusto processo svolgiamo continuamente degli interventi che la stessa corte costituzionale chiama di ortopedia giuridica ma l'ortopedia giuridica è ovviamente un campo limitato perché il tessuto normativo è un tessuto vincolante cosa voglio dire che il principio del contraddittore è sicuramente un principio fondamentale e tra l'altro è un principio molto importante nell'interesse dello stesso organo inquirente ma in assenza di disposizioni puntuali ovviamente il dato è ontologico e calab può essere recuperabile inserito nell'ambito del rapporto processuale a una condizione che vi sia una norma puntuale la conclusione qual è? che nella fase dell'accertamento istruttorio purtroppo io di questo ne soffro da sempre però è un dato normativo cioè l'istruttoria del pubblico ministero istituito presso la Corte dei Conti è un'istruttoria tendenzialmente strutturalmente unilaterale sono carenti i profili di contraddittorio a meno che per contraddittorio non si voglia intendere uno scambio di corrispondenza informativa con la pubblica amministrazione aperto a spiegazioni alternative del fatto che però sono preclusi nel momento in cui il pubblico ministero non ha proposto una lettura dannosa della fattispecie quindi questo è un dato ontologico che è superabile a una condizione cioè ci vorrebbe una riforma strutturale del processo e dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti ci ho premesso come si gestisce il rapporto processuale è ovvio che l'eventuale concorrenza di responsabilità non evocate nella non indicate nell'atto di citazione rileva nella discussione del giudizio non c'è altro modo perché lì può essere l'invito a dedurre che indica responsabilità concorrenti sostitutive succedane alternative però se il pubblico ministero non condivide la tesi difensiva il problema si sposta nella dibattito dinanzi al giudice e allora le soluzioni a me sembrano molto solide e accettabili dal punto di vista del recupero del rispetto sostanziale del principio del contraddittore e poi direi dell'equità sostanziale complessiva della giudizio di responsabilità amministrativa le soluzioni adottate sono queste il giudice esamina le due tesi che si contrappongono cioè da un lato la lettura probatoria del fatto operata dal pubblico ministero dall'altro la tesi alternativa offerta dalla difesa e le soluzioni ermeneutiche sono queste o si pratica una chiamata del terzo indicando ovviamente qual è il profilo di corresponsabilità che viene ritenuto rilevante ai fini della definizione di quel giudizio e questo io direi è la soluzione più convincente la soluzione alternativa è quella di decidere il giudizio scomputare una parte del danno indicando al pubblico ministero la necessità di un supplemento istruttorio in relazione a profili di responsabilità non compresi nel rapporto processuale dei dotti in giudizio è un modo per recuperare quel deficit di contraddittorio che abbiamo nella fase della istruttoria probatoria però a me sembra dal punto di vista cioè interpretando il sistema come un sistema affidato a operazioni diciamo di ortopedia giuridica un sistema vincolato cioè o il legislatore interviene finalmente a Moderna secondo le indicazioni che provengono dalla Corte dei Conti il giudizio di danno o altrimenti le soluzioni di ortopedia giuridica non possono essere diverse non mi sembra che ci sia da aggiungere altro probabilmente la soluzione più convincente e più conforme all'arrazio dell'articolo 111 della Costituzione è la contestualità cioè il simultaneo su processo quindi il giudice deve tra tesi e antitesi dare una lettura unitaria e contestuale quindi se vi sono responsabilità concorrenti è bene che si svolga un solo processo piuttosto che scorporare e rinviare a un supplemento istruttorio la valutazione delle eventuali responsabilità che concorrono su quelle già individuali e ovviamente questa riflessione è molto rilevante sul coinvolgimento dei revisori dei conti perché devo dire questo è un profilo immanente negli accertamenti per danno erariale e non è un profilo di facile soluzione perché? perché innanzitutto il ruolo dei revisori dei conti è un ruolo codificato in una molteplicità di adempimenti formali questi adempimenti hanno una rilevanza documentale e la causalità omissiva è condizionata a un giudizio di rilevanza cioè bisogna dimostrare ogni qualvolta vi è una fattispecie principale sulla quale l'ipotesi è il concorso dell'organo di controllo bisogna dimostrare la sussistenza di un'omissione o di un adempimento incompleto o inesatto e la rilevanza di questo profilo omissivo o inesattamente adempitivo sulla impedimento del danno quindi la valutazione è una valutazione complessa ma non è una valutazione che il pubblico ministero mette e non è semplice non è facile dimostrare che l'attività del revisore dei conti è comunque rilevante dal punto di vista dell'imputazione del danno erariale devo dire che comunque questo accertamento è molto ma molto più insistente e completo nelle ipotesi di ammanco contabile o comunque di fattispecie ammatrice dolosa orientate al conseguimento di un vantaggio illecito il pubblico ministero nell'accertamento della fattispecie registra sempre questi profili cioè la fattispecie principale ha un autore principale e un vantaggio conseguito però i punti di resistenza interni all'amministrazione hanno funzionato non hanno funzionato hanno funzionato male quali sono le falle e gli anticorpi che non hanno funzionato ma non è facile trovare un concorso colposo io devo dire nelle molteplicità di fattispecie ammatrice dolosa è difficile trovare un adempimento gravemente colposo concorrente con la fattispecie di danno e potrei evocare la fattispecie dei gruppi consigliari nella nella fattispecie delle spese di gestione dei gruppi consigliari è presente il profilo della omissione contabile nei giudizi che si stanno svolgendo nella molteplicità delle sedi regionali noi abbiamo delle fattispecie macroscopicamente difforme dalla corretta gestione molte fattispecie sono intrise di connotazione intenzionale molte condanne sono di natura dolosa non di natura colposa eppure configurare un concorso di colpa è stato molto complicato quindi noi abbiamo sicuramente una sfera di accertamenti che di fatto ha goduto di una immunità questa immunità è stata eliminata da una soluzione normativa molto discutibile perché il decreto legge 174 in realtà se voi lo andate a leggere con attenzione ha rimesso tutta un meccanismo compensativo cioè si vuole una rendicontazione amministrativa una sezione regionale di controllo che verifica la conformità della gestione a delle linee guida che sono state preventivamente approvate ma il meccanismo non è sanzionatorio è compensativo cioè si dichiara la irregolarità di alcuni profili e componenti di spesa la conclusione qual è? che negli accreditamenti successivi si compensa per la parte dichiarata irregolare in realtà la sostanza della gestione finora almeno dando una lettura complessiva è completamente diversa cioè vi sono delle spese che non hanno servito le finalità indicate dalla Corte Costituzionale perché le spese dei gruppi consigliali dovrebbero essere spese di supporto per lo svolgimento dell'attività normativa presso le assemblee legislative quindi non sono spese personali di supporto alle attività individuali dei singoli consiglieri ma sono delle provviste finanziarie destinate a sopperire alle carenze strutturali degli uffici istituiti presso le assemblee legislative quindi tutti quei supporti cognitivi informativi che gli uffici di diretta gestione e di supporto alle attività legislative non riescono a svolgere sono ottenibili attraverso un conferimento di una provvista supplementare i consiglieri che compongono l'assemblea regionale ovviamente nella rendicontazione della spesa si trova di tutto questo è un dato notorio e allora la soluzione qual è? in questo momento la lettura dei dati giurisprudenziali è univoca cioè in prevalenza si tratta di giudizi conclusi con condanna restitutoria dell'intero a titolo di dolo ma il profilo della revisione della spesa non è messo in discussione perché la inerenza della singola spesa alla attività del consigliere è insita nel documento rappresentativo della spesa cioè il dato è presuntivo da parte dell'ufficio di controllo e poi il singolo consigliere che deve dimostrare la inerenza in concreto ma questo lo deve dimostrare dinanzi all'inquirente quindi è giusto mettere in evidenza la necessità che il giudizio di responsabilità sia completo sia esaustivo sia soggettivamente orientato verso tutte le competenze procedimentali che convergono verso la gestione di quella spesa puntuale però attenzione agli automatismi cioè non ogni comportamento illecito è ricongiungibile a una imputazione concorrente nei confronti del revisore dei conti questo mi sembra un precedente molto importante vado alla diversa impostazione dei danni e delle categorie di danni che l'avvocato se le ha proposto ecco a me sembra molto interessante il quadro complessivo però attenzione anche qui a valutare i coefficienti di difficoltà innanzitutto sul danno all'immagine a me sembra chiaro un dato normativo cioè noi abbiamo una normazione fortemente contraddittoria perché è una normazione limitativa che costringe alla configurazione del danno all'immagine solo ed esclusivamente in presenza di fatti di reato riconducibili allo statuto penale di protezione della pubblica amministrazione quindi non ogni reato ma reati contemplati nella parte nel titolo nel settore del codice penale che protegge la pubblica amministrazione quindi reati propri gli altri reati sarebbero in sé inidonei a evocare il danno all'immagine facendo una breve digressione in quella fattispecie che io vi ho proposto della data esecuzione dei lavori di ripascimento del poietto il pubblico ministero ci ha provato col danno all'immagine perché è una fattispecie talmente macroscopica di deturpamento della bellezza naturale collesione del prestigio dell'amministrazione appaltante che il danno all'immagine ci stava però normativamente è una fattispecie preclusa salvo poi ad avere una legislazione anticorruzione che evoca un criterio tassativo di stima del danno all'immagine cioè il doppio del valore illecitamente conseguito quindi a me sembra che le tendenze e controtendenze siano palesi nel momento in cui andiamo a ragionare sulle tipologie di danno erariale però sicuramente il danno all'immagine a parte l'interesse scientifico di ricostruzione domatica io posso assicurare che nella esperienza concreta dei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti dal punto di vista finanziario ha un ruolo assolutamente marginale perché la vocazione principale del danno erariale è quella di assorbire le fattispecie di danno patrimoniale diretto e conclamato cioè la perdita di utilità e le spese assolutamente inefficaci orientate a risultati non propri nella gestione degli interessi pubblici quindi è sicuramente una vocazione importante per dare il senso di un recupero di eticità nella azione amministrativa ma dal punto di vista finanziario non dico che è svuotato però è depotenziato perché la maggior parte di rilevanza del danno erariale va sul danno patrimoniale diretto disservizio e perdita di scienze io li tratterei insieme sono la dimostrazione della estrema vitalità della giurisdizione di responsabilità amministrativa quindi non soltanto una lettura statica del danno patrimoniale criterio differenziale stima di un bene perduto di un bene che diminuisce di valore qui la tendenza della giurisdizione di responsabilità come dicevo nella prima parte delle mie riflessioni è quello di ragionare su utilità potenziali non conseguite quindi il disservizio è vero che deve essere incastonato in un tessuto probatorio solido mentre molte volte il pubblico mistero prova con indicatori presuntivi e questo ovviamente è un rischio perché il giudice non sempre è disposto a ragionare sulla dinamica della fattispecie e su dati presuntivi però quello che è importante a mio modo di vedere è dimostrare che la fattispecie dannosa è gravemente disfunzionale e difforme dal parametro di organizzazione di quell'amministrazione vi è quindi la lesione del buon andamento e la perdita di una utilità che è voluta da norme puntuali delle disposizioni organizzative riferibili a quell'amministrazione quindi il disservizio è o diciamo una lesione del buon andamento esistente o la perdita di un buon andamento potenziale ricollegabile a comportamenti doverosi quello che però ovviamente la giurisprudenza conserva e direi diciamo questo è un parametro vincolante per il pubblico ministero è l'accertamento dei costi aggiuntivi perché in fondo il giudice chiede questo non indizi non mere prove presuntive ma indicazioni di costi che hanno aggravato la macchina amministrativa e questa è un po' la difficoltà della della pratica probatoria ed è molto più evidente questa difficoltà probatoria nel danno da perdita di chance che è una bellissima categoria astratta di teoria del danno però vi devo dire che è un inferno probatorio nel momento in cui il pubblico ministero si mette con logiche di dimostrazione rigorosa della sussistenza della componente patrimoniale perduta perché perché la perdita di chance è automaticamente riconducibile a una situazione potenziale il caso tipico è la gara illegittimamente espletata con delle disposizioni che ledono la par condicio dei candidati dei concorrenti quindi una libera concorrenza sicuramente tutelata dalle disposizioni procedimentali ma quel procedimento contrattuale non garantisce la pari partecipazione e allora qui il pensiero è immediato evidentemente l'amministrazione ha perduto un'aspettativa perché se fosse stata garantita la par condicio il contratto sarebbe stato aggiudicato a condizioni economicamente più vantaggiosi però attenzione è una formula è una formula convenzionale perché bisogna dimostrare la perdita economica della scienza quindi bisogna ricostruire ipoteticamente una gara bisogna eliminare la illegittimità e ipotizzare uno svolgimento legittimo della gara e indicare quella componente patrimoniale non conseguita dall'amministrazione non sono tante le fattispecie nelle quali è possibile dal punto di vista approbatorio fondare concrete e infusitabili la assistenza io devo dire l'unica fattispecie nella quale nella impostazione probatoria in Emilia Romagna siamo riusciti è la trasformazione di una concessione di servizio in appalto di servizio per clausole aggiuntive e successive alla aggiudicazione della concessione con una onerosità maggiore accertata nelle clausole aggiunte illegittimamente però il dato era facilmente individuabile e stimabile con dei parametri che sono stati forniti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e poi confermati dall'ANAC perché lì abbiamo ricostruito i parametri economici riferiti alle gare nazionali abbiamo individuato dei parametri economici certi e siamo andati con parametri percentuali che obiettivamente non sono confundabili e che sono desunti da dati diffusi nel territorio nazionale quindi anche quello è un danno molto complicato però sicuramente dimostra una forte vitalità del giudizio di responsabilità amministrativa l'ultimo ragionamento io lo dedicherei alla colpa alla colpa grave alla colpa professionale allora io condivido questa ricerca normativa e la sua conclusione cioè grave trascuratezza macroscopico allontanamento dai doveri fondamentali di gestione del bene pubblico però molte volte devo dire la giurisprudenza che dequalifica le colpe da gravi allievi commette di considerare che il parametro medio di gestione degli interessi collettivi non è un parametro basso dovrebbe essere un parametro più elevato in relazione al grado di conoscenza e di professionalità che lo stesso legislatore presuppone nella gestione della cosa pubblica io quando ragiono sulla colpa grave evoco sempre gli indirizzi della Corte di Cassazione in materia di colpa sanitaria perché voi sapete lì vi è stata una forte evoluzione oscillazione sulla individuazione della colpa grave però la Corte di Cassazione è arrivata anche a scindere i profili la imperizia la imprudenza la negligenza però vi sono dei profili di valutazione degli atteggiamenti psicologici che non possono essere svincolati dal coefficiente di conoscenza delle regole delle tecniche di gestione che l'ordinamento dà per presupposto e per implicito nell'autore della gestione quindi adottare un parametro astatto e svincolato dalla tipologia della fattispecie significa un po' perdere di concretezza i parametri necessari per qualificare la gravità della colpa quindi io ritengo che la colpa comune abbia dei parametri cioè lieve lievissima grave gravissima però nella gestione degli interessi pubblici la colpa grave dovrebbe avere un range diverso e il presupposto di ragionamento dovrebbe essere un presupposto più elevato cioè colui che viene investito e così dovrebbe essere cioè colui che viene investito dell'esercizio di funzioni pubbliche deve comunque avere un livello di conoscenza professionale dell'attività che è superiore alla media ovviamente diciamo è un ragionamento un ragionamento personale però devo dire questi atteggiamenti sulla valutazione della colpa e sull'aggravamento della colpa sono presenti nella recente giurisprudenza sui gruppi consigliari perché nella giurisprudenza sui gruppi consigliari si esaminano queste eccezioni di sussistenza della buona fede cioè sono comportamenti risalenti che sono sempre stati tenuti e qui comunque la giurisprudenza di responsabilità si sta formando con logiche direi di severità cioè si ragiona sulla tipologia del munus sulla rappresentatività della funzione e sul livello di doverosità di conoscenza dei parametri io direi elementari e minimi nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche quindi in realtà il parametro della colpa grave è un parametro che deve costruire la giurisprudenza con molta attenzione a me sembra cioè il riferimento alla giurisprudenza sulla colpa sanitaria mi sembra un parametro convincente velocemente su alcune fattispecie che a me sembra comunque provino nella giurisprudenza delle risposte soddisfacenti cioè ricorso a consulenza e concessione di tribù nel ricorso a consulenza lo devo dire è una delle delle fattispecie più difficile più insidiose perché molte volte ci si trova in presenza di motivazioni apparenti perché l'amministrazione fa riferimento alla carenza di risorse interne alla infungibilità ci si trova anche in presenza di tetti di spese e di vincoli che sono rispettati rimanendo diciamo proprio sul limite del tetto massimo devo dire comunque che guardando le fattispecie di responsabilità la sensazione è quella di un accertamento probatorio molto analitico molto puntuale e della sussistenza di una molteplicità di indicatori di fittizietà della motivazione adottata dall'amministrazione nel conferimento della consulenza e questo è molto più evidente nei rapporti di durata cioè nei rapporti che scadono e si rinnovano e soprattutto a me sembrano interessanti quelle motivazioni della giurisprudenza d'appello nella parte in cui riconoscono che il ricorso a consulenza non può essere uno strumento ordinario abituale per sopperire ad oneri di servizio interno intraneo all'amministrazione e la consulenza non può diventare uno strumento alternativo per costruire un apparato esterno all'apparato della pubblica amministrazione quindi in realtà la giurisprudenza sull'illegittimità e sull'illicità dei rapporti consulenziali è molto ricco da questo punto di vista sulle concessioni di tributi questa è stata una piaga del sistema la giurisprudenza di responsabilità però lì è arrivata è arrivata purtroppo arrivare in un momento in cui il sistema ha dimostrato la sua fallacità complessiva perché la riscossione dei tributi soprattutto degli enti locali in Italia è stata affidata a società che nel breve arco di tempo sono andate prima in amministrazione straordinaria e poi in fallimento si sono fatti i giudizi di conto con il meccanismo sanzionatorio cioè il concessionario dei tributi che non rende il conto subisce una sanzione parametrata all'agio e ovviamente le condanne sono tante e lì rimane comunque il problema di fondo perché quello è un problema serio ma anche lì il problema dell'accertamento documentario del concorso dei revisori dei conti perché questi sono rapporti di dare avere che sono sensibili a degli adempimenti formali di riscontro gravanti sulle competenze dell'organo di revisione dei conti però devo dire in questo momento è sicuramente un punto critico importante le procure della corte sono intervenute probabilmente ci vuole una forte revisione normativa a garanzia della gestione corretta del tributo erariale una cosa che devo dire molto insidiosa finora nei confronti delle competenze della corte dei conti è l'orientamento della Cassazione che è un orientamento stabile noi ci abbiamo provato a farlo modificare la Cassazione sostiene questo che nel momento in cui il concessionario della riscossione dei tribù riscuote l'entrata pubblica si esaurisce la natura pubblicistica del rapporto e il debito del concessionario nei confronti dell'ente locale diventa un debito di diritto privato non assistito da privilegio quindi il danno è la beffa cioè il contribuente paga al concessionario il concessionario trafuga l'entrata e l'ente locale si trova a insinuarsi in un passivo fallimentare senza il privilegio e qui la soluzione finora sperimentata è quella di far concorrere la responsabilità per dannerariale con la responsabilità di tipo civilistico e recuperare il privilegio attraverso una condanna della corte dei conti che dimostra la natura pubblicistica della obbligazione passiva non adempiuta e su questo devo dire vi sono alcuni contenziosi in atto però la funzione della tutela di diritto pubblico è attiva è molto forte va bene a me sembra diciamo più che sufficiente l'unica cosa che volevo puntualizzare a conclusione delle mie osservazioni sulla natura sanzionatoria del dannerariale ovviamente io vi ho dato un panorama aperto perché sono in questo momento aperte le letture giurisprudenziali delle fattispecie che vi ho proposto quindi noi abbiamo da un lato l'impostazione tradizionale del danno economico da stimare con criterio differenziale dall'altro lato tutta questa miriade di fattispecie che in questo momento io definirei miste cioè dannerariale che si ricongiunge a profili sanzionatori però attenzione a concludere che la Corte dei Conti è diventata una giurisdizione di sanzioni pecuniari su questo io non sono assolutamente d'accordo quindi è sicuramente una prospettiva di evoluzione del tessuto normativo che speriamo si consolidi con dei dati sistematici più omogenei però in questo momento ogni qualvolta ci troviamo a leggere dei dati giurisprudenziali in cui è presente il profilo sanzionatorio io non mi sento di affermare che il profilo sanzionatorio è autonomo e avulso dall'accertamento dell'esistenza del dato fondamentale derivante dall'invarianza concettuale cioè dinanzi alla Corte dei Conti il giudizio di danno è un giudizio per perdita di un valore economico o per omesso conseguimento di un valore economico poi possiamo aggiungere altro però la base ontologica della nostra giuridizione è proprio questa va bene poi se vogliamo raccogliere qualche osservazione altrimenti vuole Devo dire che il giudizio contabile a me piace molto è un giudizio basato su una normativa vecchia e che meriterebbe di essere implementata innovata anche alla luce di quelle che sono poi le evoluzioni di altri processi anche perché è inevitabile pensare a quella che è una sinergia tra le varie giurisdizioni e mi ricordo che in un discorso inaugurale il presidente del TAR all'epoca era consigliere numerico e aveva proprio manifestato la volontà di creare uno stretto collegamento con la procura della Repubblica e con la procura regionale della Corte dei Conti proprio una sinergia tra le tre giurisdizioni perché inevitabilmente una fattispecie di un tipo chiama l'altra e viceversa quindi talvolta l'aspetto penale a prescindere dai reati che possono avere quella implicazione automatica quegli automatismi e quelle sanzioni sono fonte di danno erariale o ipotesi di danno erariale celano anche delle ipotesi che potrebbero avere una natura delittuosa allo stesso tempo la giurisprudenza amministrativa i tribunali amministrativi hanno anche una funzione delicata nel far emergere alcune situazioni quando si parla di perdita di chance di violazione dei diritti di concorrenza in materia degli appalti quando si riconosce il risarcimento del danno alla società non aggiudicataria che poi risulti effettivamente meritevole di aver avuto quella giudicazione ristorabile attraverso una percentuale dal 5 al 10% la giurisprudenza varia su queste percentuali e beh troviamo effettivamente la prova concreta di quella che è una patologia nella gestione dell'appalto e una patologia nella gestione di pubbliche risorse quindi io credo che oltre all'innovazione del processo che può avvenire anche attraverso attività nella discrezionalità dell'organo giudicante ad esempio la chiamata di terzo a prescindere da una legge che la prevede espressamente o che la tipizzi espressamente può essere effettuata proprio tenuto conto del buon senso anche a fronte della più o meno precisa e puntuale richiesta e dimostrazione della funzione di questo terzo che debba partecipare ma la sinergia con le altre giurisdizioni rappresenta un complemento che parimenti va coltivato e va implementato proprio perché di fatto siamo persone e i contesti sono gli stessi e le condotte e le violazioni di condotte comportamentali all'interno della pubblica amministrazione ruotano attorno ai parametri fondamentali che sono quelli della legalità e della legittimità che ovviamente sono destinate ad andare a braccetto e quindi questo è l'auspicio in un dialogo costruttivo tra le varie giurisdizioni Sui collegamenti processuali devo dire sono sono convinto che però ci voglia una disciplina processuale compiuta perché è verissimo che le disposizioni sulle tipizzazioni di responsabilità vincolano il giudice che esamina un comportamento patologico della pubblica amministrazione a trasmettere le carte alle procure della corte dei conti quindi bisogna una miriade di danno dal ritardo silenzio in adempimento acquisizione sanante cioè bisogna una serie di fatti speciali nelle quali il giudice amministrativo è proprio vincolato all'obbligo di denuncia però il problema è quello della circolazione probatoria delle fonti di dimostrazione del danno erariale perché molte contestazioni che abbiamo in queste sinergie processuali sono incentrate sulla rilevanza della prova e sono molto forti ovviamente quelle diciamo ricollegabili al collegamento tra il processo penale e il processo di responsabilità amministrativa quindi sicuramente la sinergia è un dato ineludibile e secondo me riconducibile al tessuto dei valori costituzionali che nel momento in cui improntano la tutela del buon andamento in questo momento collegano le giurisdizioni tra loro se guardiamo la giurisdizione la giurisprudenza della Corte di Cassazione quindi vi è una lettura unitaria dei sistemi di tutela degli interessi pubblici però ci vuole a mio modo di vedere una soluzione normativa che disciplini il collegamento tra le prove acquisite nei diversi ambiti processuali mi sembra che abbiamo parlato abbastanza adesso si tratta di scrivere il codice del processo contabile non ci rimane che fare qui va bene vi ringraziamo dell'attenzione nonostante la lunghezza dell'incontro se non ci sono osservazioni penso che ci possiamo salutare grazie 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 grazie